Mentre si abbassa il numero dei positivi a Caltanissetta e in tutta la provincia, 158 nelle ultime 24 ore, dei quali soltanto 35 a Caltanissetta e i ricoveri restano stabili, 61 in malattie infettive, 3 in terapia intensiva, l'ASP decide di aprire le porte degli hub vaccinali della provincia in Open Day. Sarà possibile vaccinarsi senza alcuna prenotazione al CEFPAS, al Centro Commerciale del Casare di San Cataldo, all'Ambulatorio Vaccinale Immacolata Lungo di Mussomedi, all'Hub Vaccinale Palacossiga di Gela, all'Ambulatorio Vaccinale Santo Stefano di Mazzarino e all'Ambulatorio Vaccinale di Niscemi. È un'iniziativa dedicata a tutti i cittadini che hanno un'età superiore ai 12 anni ai quali sarà consentita la somministrazione del vaccino senza necessità di alcuna prenotazione. Nel caso di minorenni è necessario l'accompagnamento di un genitore o di chi le fa le veci. È un'opportunità che l'azienda ospedaliera offre per semplificare le modalità di accesso a chi intende iniziare o completare il ciclo vaccinale per accelerare la campagna vaccinale anche alla luce della novità emanate dal governo che ha autorizzato dal 10 gennaio il richiamo booster dopo quattro mesi, ovvero 120 giorni dalla seconda dose e fissato al primo di febbraio la scadenza del Green Pass dopo sei mesi.